In un'altra volta facciamo anche il potenzo per fare la prima classificata per il povero di notare la vostra bandera. E a questa squadra, ragazzi, fare il problema che viene eliminato da un'altra bandera. Sì, sì, sì! La prima targa, la prima targa, che è in cima del mio coraggio, se può venire, se può venire, se può venire. La prima targa, la prima targa, la prima targa, la prima targa. La prima targa, la prima targa, la prima targa. La prima targa, la prima targa, la prima targa. La prima targa, la prima targa. La prima targa, la prima targa, la prima targa. La prima targa. La prima targa, la prima targa. 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 Grazie. 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 Mario. 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 On it in the new value card. Grazie. Grazie. Mario. 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 I ocupa un po' cosa. Nino, Nino. Nino! Chi è conto per chi ha fatto? Tre! Ok! Ehhh! Come ti chiedi tu? Ciao! Ciao! Ciao Nino! Ciao! Allora! Allora, dentro! A tutti! Quella è tua, mamma! Questa è sua! Aspetta, sciuditela! Questa è tua! Una ciascuna, forse! Benino, un minuto! Non so cosa viene a Rossella, no? Allora! Sì! 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 Sì!